Stai solo no? Stai solo no? Stai solito All power supply systems Have been switched to emergency mode 1.500€ 1.500€ 1.500€ 1.500€ questo è F 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 3.500€ 3.500€ 3.500€ 3.500€ 3.500€ 4.500€ 4.500€ 4.500€ dove sta la extraczione più cercana? io sto qui, extraczione possibile il limite di peso 10 kg tengo 10,3 kg, ma qui toco altre cose c'è un po' che c'è tutto c'è un po' che c'è l'ho Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.